C'è dentro tutta quanta l'interfaccia con tutte le principali funzionalità, si divisa per categoria, facilissime da girare e da scorrere, sia per quanto riguarda la parte di comunicazione, sia per quanto riguarda la multimedialità, sia per quanto riguarda tutti i contenuti dell'interfaccia. Ecco, l'accesso alle foto? L'accesso alle foto, molto semplice, mi posso portare sul mio verso le foto che più mi interessano, qui ci sono i contatti, qui ci sono invece le foto, ha praticamente la possibilità di scorrere con effetto del carosello le fotografie, dopodiché le apro, qua andranno spessore quello poi è rotto, tutto alluminio.